chiucchio che ha fatto guarda con i movimenti è bravissimo sembra che la stiamo di posto il kerando però c'è un contento incredibile che contenuto assurdo ma ma che bello con questa luce c'è così e guarda che bell'infatratura c'è vero con questi bambi che arrivano non lo so lei continua la cosa è sorvega lei continua ad andare avanti ballando lei è uscita dal matrix lei è fuori dal matrix lei sta vivendo nel suo mondo è fuori dal matrix questa donna guarda l'ha raggiunto il nirvana si raga guarda l'ha quanti poche mando accendare guarda lo so le faccio Landesa mi passa qui car Quasi Quasi Grazie a tutti.